Candele, luci colorate, sciabordio delle onde. Uno sfondo perfetto, quello del circolo della vela di Bari per la presentazione della nuova Lancia Ypsilon. Design, tecnologia e temperamento per una compatta che supera ogni aspettativa. Cinque porte e tutte da scoprire. La nuova Mini Ammiraglia rimarca il concetto di Fashion City Car, come ci spiega Francesco Maldarizzi, amministratore delegato del gruppo. Per la prima volta la Lancia presenta la new Ypsilon a cinque porte, che è una vettura straordinaria, è una piccola vettura ma una vera ammiraglia, con il massimo dei contenuti di lusso, di risparmi, sotto il profilo ecologico. E pensate un po' che quest'auto, pur avendo quattro porte, più lunga della Ypsilon tre porte è solo di tre centimetri. A livello di accessori avremo il nuovo cambio automatico chiamato DFN, avremo la cosa più importante, la nuovissima motorizzazione Fiat, che non più tardi di una settimana fa è stata premiata come miglior motore innovativo del mondo, con un motore 900 bicilindrico Twin Air. Un'auto per tutta l'età è adatta a soddisfare tutte le esigenze, quelle delle famiglie, ma anche dei giovani singole e delle donne in carriera, nella quale il concetto di utilitaria diventa Fashion e la praticità un elemento strategico per l'uso in città. Molto piacevolmente colpito il pubblico della vela che ha accolto la mini ammiraglia come il nuovo must dell'estate. Grazie. Grazie.